Quindi se introducete l'intento cambiate la dimensione, ma c'è un segreto, il segreto è che l'intento non deve arrivare dal livello dell'ego, l'intenzione deve arrivare da oltre l'ego. Ricordavo molti anni fa, anni fa ero studente di medicina in India e durante le lezioni portarono questo yogi per dimostrare la forza dell'intenzione. Durante la lezione di fisiologia ci mostrò il potere dell'intenzione, gli yogi dovete sapere hanno abilità straordinarie, i siddi di cui abbiamo parlato, alcuni sanno e comunque yogi, yoga vengono dalla stessa fonte, significa unione tra mente, corpo, anima, spirito e ambiente. Questo giovane uomo, questo yogi, aveva probabilmente 28 o 29 anni e aveva imparato lo yoga sull'Himalaya. Lui venne all'università per mostrarci durante la lezione di fisiologia, mostrarci qualcosa di importante. Lui prese un coltello e lui infilò attraverso il suo bicipite. Ora se lo faceste ai miei di bicipiti probabilmente sanguinerebbero. Questo coltello invece attraversò tranquillamente il muscolo, perché per uno yogi, uno yogi vero, questo non è il corpo. Quello della carne e delle ossa non è il corpo. Il corpo è il corpo della coscienza, della consapevolezza, è il corpo della luce e la luce non sanguina. Lui mise il coltello attraverso il muscolo e tutti noi eravamo sorpresi e in shock per quello che stava facendo. Poi uno dei medici, che era in prima fila, era un professore di medicina, introdusse il dubbio. Il dubbio di cui abbiamo parlato e Wayne ci ha detto, eliminate il dubbio. Questo medico pensava che questo fosse un trucco e quindi sfidò lo yogi e gli disse «E quali altri trucchi hai nascosti nelle tue maniche?» E immediatamente l'attenzione dello yogi cambiò da se stesso alla sua immagine. Perché quando voi sfidate qualcuno, chi sfidate? L'ego. Perché lo spirito va oltre quello, va oltre la sfida. Quindi non appena la sua attenzione si spostò dallo spirito per andare sull'ego, il muscolo si aprì e incominciò a sanguinare come se fosse una fontana. Macchiò tutti quelli che erano in prima fila. Poi lo yogi era così esperto che non appena si accorse cosa stava accadendo, lasciò andare l'ego. E tornò insamanti. E non appena lo fece, il sangue si fermò. Velocemente quanto incominciò. Come se fosse un rubinetto. Quindi questa è la parte dell'intenzione. Ma l'intenzione non deve arrivare dall'ego. Deve arrivare dal livello dello spirito. Deve arrivare da uno spazio dove avete totalmente, completamente e senza dubbio abbandonato l'esigenza dell'accettazione. Perché lo spirito non ha bisogno di approvazione. È solo l'ego che vuole approvazione. Quindi questo è stato un concetto importantissimo che Wayne ha articolato. Cioè quello di essere indipendente dall'opinione altrui. Qualche anno fa ero in Australia per un corso all'Australian Royal Society. E tutto è entrato una persona in prima fila. Mentre parlavo mi interruppe dicendo Questa è una frode. È tutto falso. E gli chiese scusi chi è lei? Gli rispose Sono il presidente dell'associazione scettici australiani. E io gli dissi Non le credo. Questo spirito è oltre l'ego. Deve andare lì. Quando arriviamo lì Incominciamo ad andare Oltre i nostri stati di coscienza ordinarie. Quello che la grande tradizione Vedanta dice È che questi stati di coscienza Creano nuovi modi di funzionamento del sistema nervoso. Nuove onde. E in ogni stato di funzionamento del sistema nervoso C'è una fisiologia. Una realtà specifica. Quindi In questo modo si incomincia a fuggire dalla realtà ordinaria. Questa che è stata definita la realtà ordinaria. Come spiegava Wayne È la mente tribale. E ci sono questi saggi Questi geni Questi psicopatici bizzarri Che nei secoli sono stati in grado di uscire Da questa realtà di gruppo. Perché bisogna fuggire da questa mente tribale. E una volta scappati da questa realtà condivisa Allora incomincerete a vedere che ci sono altri stati Che vanno oltre la coscienza ordinaria Dell'essere svegli Dell'essere svegli Del dormire E del sognale Il primo stato di coscienza È il dormire profondamente È uno stato durante il quale il nostro sistema nervoso È in uno stato in cui risponde agli stimoli in modo primitivo Quindi è considerato uno stato di coscienza Perché comunque rispondiamo agli stimoli Il secondo stato di coscienza È il sogno Ci si sveglia per così dire Dallo stato di sonno profondo Per poter sognare E quando ci svegliamo Dallo stato di sogno Si entra nel terzo stato Quello di veglia Ed è lo stato nel quale io mi auguro Voi siate in questo momento E in questo stato guardiamo il sogno Che stavamo facendo E diciamo Oh Quello era solo un sogno Non era reale Era solo nella mia testa E la tradizione Vedanta Ci spiega che anche questo È solo nella nostra testa Anche se sembra un mondo esterno Là fuori In realtà non lo è È la proiezione Della vostra coscienza Questo mondo Che chiamiamo la realtà fisica È la proiezione Della nostra consapevolezza Nello stato di veglia Se potessimo svegliarci Da questo stato di veglia Questa proiezione sarebbe Altrettanto effimera Altrettanto temporanea Quanto temporaneo era il sogno Nel momento in cui Noi stavamo sognando Ma poi ci siamo svegliati Dal sogno E abbiamo detto Ah 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 Quello era un sogno E quindi possiamo Svegliarci da questo stato Ed entrare nel quarto stato Di cui parlerò fra poco E dire Ah 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 Quello era lo stato di veglia Interessante Alcune persone hanno questo tipo di risveglio Durante le esperienze Che sono state chiamate Le esperienze Di morte Un mio paziente Un mio paziente Anni fa Molti anni fa Era sul tetto Della casa di un vicino Perché stava aggiustando L'antenna E mentre era sul tetto Toccò un filo Pensando che questo Fosse un filo Innocuo Ma in realtà Questo filo Aveva 12.000 volt E l'elettricità Entrò in tutto il suo corpo E ovviamente Anche nel suo cuore Fino ad ucciderlo Quindi lui cade dal tetto Era circa 6 metri d'altezza E morì Ma quello era Il suo giorno fortunato Perché Cadde con un angolo Talmente preciso In modo talmente preciso Nel punto preciso Con l'impatto preciso Che l'impatto Provocò una Deferbrillazione E quindi Quando lo incontrai Gli chiesi Cosa è successo Bob? E lui mi rispose Beh Penso che Dio Mi abbia chiamato Ma poi Ha cambiato Subito idea Io gli ho chiesto Come è stato? E lui rispose È stato come Svegliarmi da un sogno Tutta la mia vita Mi è passata davanti Sullo schermo Sullo schermo Della mia coscienza In microsecondi Probabilmente Avete sentito parlare Di descrizioni simili Ero in un tunnel E poi ero nella luce E oltre a quella luce C'era la nuova dimensione Di esistenza Questo racconto Lui me lo fece Molto tempo fa Molto prima Che in questi anni Si è molto parlato E scritto su queste esperienze E tutte Tutte Dicono la stessa cosa Sia che siano Di religione O tradizione Induista Cristiana Islamica O Sufi Dicono tutti La stessa cosa Un sommario Della vita Come se fosse Un sogno Tutto il karma Della vita Che scorre Poi un piccolo viaggio Poi la luce E una nuova dimensione Di esistenza Che è letteralmente Il processo Del risveglio Buddha Il fondatore Del buddismo Nel suo letto Di morte Aveva persone Attorno a lui Che gli chiedevano Chi sei tu? Sei il messia? Lui disse No Sei un profeta? Lui disse No Sei illuminato? Lui disse Veramente no? Pensate Il Buddha Disse questo E quindi Chi sei tu? Gli chiesero E lui rispose Mi sto risvegliando Mi sono appena svegliato Da questo sogno Che chiamate vita Disse Questa Che chiamiamo vita È temporanea Come le nuvole d'autunno Vedere la nascita E la morte Degli esseri umani È come guardare Ai movimenti Di una danza La vita è come un flash Di un fulmine Che scende dal cielo Come un torrente Che si affretta A scendere dalla montagna Ma io adesso Ma io adesso sono sveglio Walt Wildman In uno dei suoi poemi Parlò Dell'esperienza Dell'anima Dicendo Non devo essere sveglio Perché Tutto mi sembra Diverso Da com'era Oppure Ora sono sveglio E tutto quello Che era prima Era solo un sogno Quindi Molte persone Hanno avuto Questa esperienza Anche senza Una scarica elettrica È il nocciolo del discorso Trascendere Andare oltre Shamadi Ecco cos'è Shamadi Questo è il quarto stato di coscienza È lo stato nel quale lasciamo l'ego In quel posto silenzioso Dove ci riconnettiamo con la mente cosmica Quindi Cosa accade Incominciamo ad avere Sincronicità E perché Perché incominciamo ad introdurre L'intenzione Nel campo energetico Nella coscienza collettiva Che è parte Del campo energetico Quindi chiedi E ti sarà dato Il quinto stato di coscienza Che va oltre lo Samadhi È chiamato La coscienza cosmica Nella coscienza cosmica Il cervello Ha un funzionamento Completamente Differente È lo stato Nel quale Si ha la simultaneità Dell'essere In questo mondo Senza farne parte Nel Vangelo Gesù disse Di essere In questo mondo Ma non di farne parte Questo funziona Quando si opera Simultaneamente In entrambi i mondi Nel mondo materiale E in quello spirituale Questo Si chiama Consapevolezza cosmica Significa avere Il testimone Vivo Sveglio In stato di sonno In stato di sonno Di sogno Di veglia E quindi Di avere Il sakti Del testimone Completamente sveglio In tutti i stati Quello di sonno Di sogno E di veglia Questo significa Che il vostro corpo E la vostra mente Sono in sonno profondo Ma il testimone Osserva Il vostro corpo E la vostra mente Sono nello stato di sogno E il testimone Osserva Il vostro corpo La vostra mente Fanno una lezione Giocano a tennis E il testimone Osserva In questo stato Non si perde Mai Coscienza del testimone Ed è sempre lì E questa È quella che è chiamata La consapevolezza cosmica La simultaneità Di esserci E di non esserci Oltre a questo C'è il sesto stato Che si chiama La consapevolezza divina